Ciao a tutti, eccomi qui con un video creazioni non sono tante le cosine che ho fatto però adesso vi farò vedere quello che sono riuscita a creare queste sono delle questa luce è un cavolo non si vede molto la luce sgaffa, ecco queste sono saponi saponcini a forma di fiore rosa con il profumo alla mandorla sono veramente buone, hanno un profumo incredibile ho provato a fare, sono venute queste due qui che sono anche carine come pensierino poi finalmente ho fatto i segnalibri questo era un biscottino che avevo già fatto tempo fa in fimo con con gli zuccherini viola ho aggiunto questo piccolo strass e oggi mi sono arrivate le le palette a bassa lingua e le ho fatte da che userò come segnalibro questo è il primo poi per quanto riguarda gli orecchini ho fatto questi con questo ciondolo che si serve a forma di rologio e queste perline stardust con la monachella il ciondolo è in bronzo poi sempre in bronzo mi si è accartocciato tutto ho fatto questi in bronzo con questo piccolo chiave e le perline in vetro rosa poi ho fatto ho fatto li avevo già imbustati da mettere via avevo fatto questi perline rossi con queste perline rosse sempre con la con la monachella e infine ho visto che non sapevo come utilizzare questi charms giganti a forma di orologio con una piccola perline trasparente e ho fatto un paio di orecchini poi non contenta ho finito uno degli espositori fatti a mano che è così così decupato il legno devo ancora mettere i chiodini però si aprirà qua ci saranno tutti i chiodini questa qua così tutto il legno e dietro è dopo questo effetto qua così e così che a me piace un sacco bene per il momento è tutto ci vediamo al prossimo video ciao